Miano, grande affermazione, sono appena concluse le votazioni, lo sfoglio, oltre 1.400 voti. La cittadinanza l'ha premiata, forse per i tanti sacrifici che in questi cinque anni ha fatto. Assolutamente, penso proprio di sì e ringrazio veramente tutta la cittadinanza, ogni cittadino per questo bellissimo supporto, per questo sostegno, segno di grande fiducia nella persona ovviamente del sindaco e di tutta la squadra, ma in questo caso nella mia persona, quindi grande estima e veramente fiducia nei miei riguardi. Per questo chiaramente io sono a disposizione, come sempre, come lo sono stata negli anni precedenti, della mia comunità, mettendo sempre la passione e la dedizione che mi hanno contraddistinto in questi anni, cercando di lavorare sempre per il bene esclusivo della nostra comunità. La comunità santa tesina ha premiato lo sforzo dell'amministrazione e lo giudice, quindi questo vi spinge ancora a fare di più, perché vi ha messo per altri cinque anni il paese nelle vostre mani e si aspetta tanto. Certamente, abbiamo riconfermato e abbiamo, come ha detto prima il sindaco, abbiamo stravinto, quindi avendoci dato questa grande fiducia noi la dobbiamo ripagare nella nostra comunità, cercando di puntare sempre più in alto, di fare tantissime azioni quotidiane che portino proprio la nostra comunità ad essere sempre la protagonista del nostro comprensorio. E questo ovviamente, se lo abbiamo fatto fino ad oggi, è proprio grazie ai nostri concittadini che ci hanno proprio supportato ma anche aiutato, perché laddove non siamo arrivati noi amministratori c'erano loro ad attenzionarci tutti. Quindi, se siamo qui, abbiamo raggiunto questo obiettivo, è perché certamente abbiamo la loro fiducia e quindi insieme dobbiamo continuare sempre dritti sulla buona strada, facendo grandi progetti che portino Santa Teresa di Riva sempre al top. Nell'intervento del sindaco lo giudice ha detto che lei ricoprerà per altri cinque anni la carica di vice sindaco. Già è una continuità, anche questo? Allora, io intanto ringrazio il sindaco perché nei cinque anni precedenti l'ho fatto a giro con i miei colleghi ma ringrazio lui per avermi dato questa fiducia perché questa volta sarà per cinque anni e quindi avrò l'onore di ricoprire questo ruolo ovviamente importante ma chiaramente al di là del ruolo che si ricopre, il mio lavoro e il mio impegno sarà a prescindere da tutto sempre, ripeto, nel bene esclusivo della nostra comunità perché io amo Santa Teresa come lo amano tutti i nostri cittadini e quindi sempre insieme a lavorare per tutta la cittadinanza. Ok, allora buon lavoro. Grazie. Grazie a tutti.